Un nuovo servizio nelle farmacie comunali di Arezzo per la misurazione delle proteine C-riattiva. L'esame è stato attivato alla Campo di Marte e alla Giotto. È un esame sempre fatto capillare sul sangue, con un piccolo prelievo di sangue, in cui si evidenzia la presenza di questa proteina, che è una proteina prodotta dal fegato quando nel nostro organismo sono presenti degli stati infiammatori. Per cui è un monitoraggio di quelle malattie croniche dovute a infiammazione e comunque potrebbe essere un primo esame per poi rivolgersi al medico, nel caso venisse un esame positivo, per poter poi capire quale stato infiammatorio c'è, dove è, per cui indagini più approfondite e mirare una terapia sempre in accordo con il medico. C'è bisogno di una prenotazione? No, l'unica cosa è che è un esame che va fatto possibilmente a digiuno, bisogna essere a digiuno da almeno 7-8 ore, per cui la mattina si può venire in farmacia e farlo. Prosegue così il percorso impostato dalle farmacie comunali di Arezzo verso il modello di farmacia dei servizi. Per essere sempre più presenti nei confronti del cittadino e offrire servizi rapidi e veloci, dare risposte in maniera adeguata.